Lontano dall'AFA, il Monte Santa Franca, a 1300 metri di altezza, ha ospitato la tradizionale festa del Gruppo Alpini di Morfasso, attivo dal 1946. Un raduno molto sentito e partecipato che ha fatto da prologo alla Festa Granda in programma a Morfasso dall'8 al 10 settembre. La celebrazione di ieri è stata arricchita da una notizia che era nell'aria, ma che è stata ufficializzata al termine della funzione religiosa celebrata da Don Gianloran Conango. Alla Festa Granda di settembre parteciperà anche il Presidente nazionale degli Alpini, Sebastiano Favero. È stata una gran bella notizia, l'abbiamo appreso in settimana e naturalmente sarà la più bella medaglia da appendere al Vesillo nel momento della nostra Festa Granda. Speriamo che ci sia buon tempo, che è molto importante perché non abbiamo le attrezzature che ci sono negli altri paesi, ma cerchiamo di figurare vero e sicuro. I nostri alpini stanno lavorando davvero con passione, con spirito, soprattutto stiamo facendo vedere che noi la montagna ci siamo, la montagna è viva. È una soddisfazione anche avere tra di noi il Presidente nazionale, penso che sia una cosa importantissima. La preghiera dell'Alpino è stata letta dal segretario del gruppo di Morfasso, Flavio Casali. Al termine della messa, una piccola sfilata ha preceduto la deposizione della corona dall'oro per i caduti di tutte le guerre, posta davanti all'oratorio di Santa Franca, prima di essere trasferita al monumento di Morfasso. La giornata è stata occasione di ritrovo anche per la squadra antincendio boschivo della protezione civileana, i cui volontari sono arrivati all'alba sul monte per un'esercitazione. Siamo esercitati nell'avvistamento di eventuali incendi boschivi sulle nostre vallate, ricalcando un po' i punti di avvistamento che faremo durante i monitoraggi estivi. La giornata di festa è proseguita in allegrea tra stand gastronomici e cori alpini.